ragazzi tu la va non scusa ero un fiorellino mi dicevi e non riesce a spugnavarvi ma si spugnava qui stai facendo pure frutta figura di frutta le tesseremo non si scurso guarda non si scurso non sapevo che mi scombina ahahahahah amore e stringami stringami qua camera vedi ho qua vedi come è combinato non andiamo avanti questa è stata dire che a voi che tu è ma tu sei tu ma tu sei tu ma tu sei tu non c'è una bilancia voglio vedere quanto pesa sono curioso andiamo a vedere chi pesa più talmente come c'è che pesa più di te con quest'ultima